La Gran Sasso Rugby è stata premiata a Roma dal CONI e dal Ministero delle Politiche Sociali per un progetto che ha visto coinvolti 200 bambini provenienti dal cratere aquilano. L'iniziativa della Gran Sasso, realizzata allo scopo di favorire l'integrazione di bambini di scuole e paesi diversi attraverso il gioco del rugby, è rientrata tra i cinque migliori progetti presentati da società sportive a livello nazionale. Soddisfatta la presidente del sodalizio di Serie A, Loredana Micheli, un progetto, ha ricordato, per rendere solido e indissolubile il legame tra la squadra di rugby e il nostro territorio. La premiazione è stata fatta dal presidente del CONI Gianni Malagò e dal ministro Poletti. Si è svolta a Roma nel Foro Italico, nell'ambito di un evento, sport e integrazione, la vittoria più bella.